Ti è piaciuto qui? La mozzarella huayana era proprio una bufala. I fiori di zucca dell'Artico, più che freschi erano gelati e le vongole del Sara... Ma almeno il caffè lo prendiamo a modo mio e a casa mia. Allora vuoi approfittare di me? No, ho io approfittato il caffè mio, che almeno quello parla italiano. Vedi come il caffè scende piano piano, intenso, corposo. Com'è? Ma è buonissimo. È la vazza a modo mio, questo parla italiano. Senti che dice? Provami, assaggiami, amami, sposami. C'è deve essere interferenza. Pronto? La vazza mi senti? Pronto? Scusa il seguito. Sento un metallico, pronto? Aichù!